In 20 settimane di apertura la ludoteca comunale al Parco del Sole ha registrato più di 400 tessere fatte, tantissime famiglie che frequentano quotidianamente la struttura, un risultato straordinario considerando l'emergenza pandemica. A gennaio però c'è stata una ripresa consistente delle attività. Il progetto si chiama Solo Posti in Piedi ed è di contrasto alla povertà educativa. È partito alla fine del 2018 arrivando come risultato all'apertura della struttura dopo un'intensa attività nelle scuole. Sino a giugno la ludoteca sarà gestita da nove associazioni con Brucaliffo Capofila. Sono partner il Comune dell'Aquila e l'Università. 96 ore di laboratori fatti lavorando con le famiglie sullo sport, l'educazione al libro, l'arte o il teatro. 200 ore di gioco libero con l'obiettivo di creare una comunità educante. Alla conferenza stampa presenti l'assessore alle politiche sociali Francesco Bignotti, il sindaco Pierluigi Biondi con Cecilia Cruciani. È la prima volta che la città dell'Aquila ha un suo spazio comunale. In 20 settimane di apertura, considerando anche che abbiamo aperto a settembre e abbiamo passato il periodo dell'emergenza sanitaria di nuovo anche quest'inverno, tante quarantene, tanti momenti in cui non si è andate anche a scuola, comunque la ludoteca ha fatto 420 tessere. Quindi siamo stati aperti 20 settimane, abbiamo avuto un'affluenza quotidiana abbastanza alta per il periodo che stiamo vivendo, considerando anche l'inverno aquilano. Il comune è partner del progetto ovviamente e grazie ai percorsi di partecipazione ha istituito proprio il servizio ludoteca che da giugno in poi diventerà una ludoteca comunale. Ora il comune dell'Aquila dopo Pasqua, come conferma l'assessore Bignotti, lavorerà al bando che assegnerà la gestione per i prossimi tre anni. Nella ludoteca si è dato inoltre lavoro anche a ben 24 operatori e pian piano l'area esterna si è arricchita di giochi. Alla conferenza hanno partecipato anche molte famiglie a testimoniare la qualità del servizio, che non è un bad visiting. Nella ludoteca infatti i bambini giocano tra loro con genitori ed educatori, un luogo sicuro, protetto, dove si può fare amicizia, un luogo colorato e di socialità. La struttura già è organica perché abbiamo approvato un regolamento proposto da me in Consiglio Comunale per l'istituzione di un nuovo servizio di ludoteca comunale approvato e quindi il servizio è già attivo. La prima annualità prevedeva la gestione all'interno del progetto Solo Posti in Piedi con le associazioni di questo progetto. Alla scadenza naturale noi già stiamo lavorando sul bando che sarà pronto, supponiamo, nel mese di marzo, aprile, diciamo prima di Pasqua, in modo tale da pubblicarlo e poi aspettare quello che succederà e affidare poi nel mese di giugno, luglio appena alla scadenza.